un buongiorno a tutti carissimi amici di mobile brand so che sono lievemente in ritardo su questa recensione e quindi vi ho appena spoilerato che stiamo per fare una recensione ma comunque finalmente eccomi qui ebbene oggi sono qui per parlarvi di questa tastiera meccanica di oki voi vi domanderete subito perché ci stai presentando un'altra tastiera meccanica di oki le risposte sono davvero semplici e ve le vado a illustrare immediatamente le differenze rispetto alla prima versione che vi ho presentato sono veramente tante e ve le passo subito ad illustrare innanzitutto abbiamo l'aggiunta del tastierino numerico che è una cosa secondo me fondamentale specialmente per chi ci lavora con queste tastiere più che per chi ci gioca ma comunque potrebbe risultare utile un po per tutti essendo che questa tastiera non è prettamente una tastiera da gaming avendo degli switch blu ma è una tastiera prevalentemente da scrittura l'ho utilizzata appunto in questo ambito principalmente e in effetti devo ammettere che è veramente bello scrivere con una tastiera meccanica con switch copia dei blu rispetto alla versione precedente i tasti ballano decisamente molto meno cioè praticamente rimangono molto fissi nella loro posizione anche quando ci si passa sopra con il dito in modo leggero mentre nella tastiera che avevo provato precedentemente la corsa del tasto era molto più lunga ed era quasi fastidioso quindi utilizzarla perché si andava spesso a toccare i tasti vicini a quello che andava premuto in più appunto i key caps ballavano molto di più invece questa tastiera è fatta in pratica in generale decisamente molto meglio e poi sicuramente per chi scrive una cosa basilare che vi tornerà estremamente utile fin dalla prima battuta che farete è il layout italiano finalmente o chi ha fatto delle tastiere con layout italiano perché io veramente ero stanca di vedere tastiere meccaniche di basso costo comunque perché sono tastiere per iniziare per avere un feeling con una meccanica con layout us che praticamente fa storcere il naso un po' a tutti perché logicamente noi che siamo qui in europa abbiamo la QWERTY con i nostri bei tastini con gli accenti e invece quella us non ce li ha e tu ti ritrovi e dici ma che cosa e finalmente qui ce li hanno messi stiamo parlando ovviamente di una tastiera rgb quindi come l'altra avrà dei giochi di colore a 6 diversi colori settabili direttamente dal tasto funzione più 1 2 3 la tastiera in un numerico qui sopra per i vari giochi perché questa tastiera è stata concepita anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del gaming senza grandi pretese ovviamente quindi avrete tasti per league of legends e altri giochi ovviamente molto famosi non c'è nessun software quindi non c'è la possibilità di selezionare i tasti come volete voi però per iniziare direi che è più che sufficiente già una selezionabilità comunque per questi giochi in più ci sono anche dei giochi di colore per chi non dovesse essere interessato al gaming e quelli si possono cambiare sempre con tasto funzione e tasto ins come potrete vedere qui in sovraimpressione che stanno scorrendo i vari colori che avete a disposizione un paio di cose in questa tastiera mi hanno leggermente fatto storcere il naso e ve le passo subito a dire i materiali di costruzione innanzitutto sono piuttosto buoni anzi più che buoni diciamo che occhi è sempre un gradino sopra al rapporto qualità prezzo quindi la sua qualità supera sempre di un gradino il prezzo dell'oggetto che va a vendere però il cavo perché avete optato per un cavo non intrecciato questo cavo probabilmente alla lunga si rovinerà i cavi intrecciati si sa che durano molto 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 più tempo però diciamo che con il rapporto qualità prezzo ci siamo sempre anche su un cavo diciamo economico e semplice come questo in più manca il connettore oro che si sa passa i dati molto più velocemente rispetto a un connettore argento come questo normale insomma però devo ammettere che anche nelle sessioni di gaming non se l'è cavata male certo non si può paragonare a una tastiera di marche blasonate che costano il doppio o il triplo però sicuramente per iniziare è più che indicata a mio parere un'altra cosa che mi è piaciuta sì e no sono praticamente questi piedini qui posteriori che si rialzano la tastiera ma rimangono sempre piuttosto bassi perché probabilmente sono troppo piegati in avanti di conseguenza si la piegano verso di voi ma magari non quanto vorreste io ci avrei fatto uno scalino a metà giusto per farla rimanere ancora un po più alta diciamo per chi preferisce però anche questo diciamo che ci sono già i piedini rialzabili e che non è da tutte le tastiere quindi non è male in più i piedini sono assolutamente ricoperti in gomma quindi quando giocherete anche nelle fasi più concità dei vostri giochi preferiti la vostra tastiera non vi scivolerà da sotto le mani e questa è una gran cosa fidatevi quindi in definitiva che cosa ho da dire di questa tastiera di occhi gran buona tastiera per iniziare sicuramente per chi si avvicina al mondo delle meccaniche non vuole spendere un patrimonio perché non è sicuro che gli possa piacere questo suono perché se non vi piace all'inizio vi posso assicurare che lo direte e se invece vi piace all'inizio continuerà a piacervi sempre di più potrebbe avvicinarsi appunto a questo mondo con una tastiera di questo genere con questa tastiera nello specifico che ha tutto quello che si può desiderare basilarmente da una tastiera meccanica perché ricordiamo che stiamo parlando di una vera tastiera meccanica che costa come magari delle memcaniche che non sono meccaniche non hanno la stessa risposta non hanno lo stesso suono di marchi magari più blasonati quindi io consiglio questa tastiera assolutamente ai neofiti e anche a chi scrive molto perché è assolutamente molto comoda anche in fase di scrittura io scrivo moltissimo e non ho mai avuto alcun tipo di problema anzi mi sono trovata molto bene sia con i key caps che non si muovono sia con in generale tutta la tastiera che risponde sempre in modo più che buono malgrado non abbia un connettore oro quindi risposta piuttosto veloce e buone performance per il prezzo che ha perché su amazon la troverete a soli 47,99 euro vi assicuro che il prezzo lo vale tutto e anche qualcosina in più diciamo che secondo me ha un valore sui 60 euro questa tastiera e voi ve la porterete a casa per meno di 50 quindi perché non andate subito nel link in descrizione ad acquistarla in modo da supportare anche il mio canale io ve lo suggerisco così ma comunque questa tastiera è assolutamente suggerita io di solito non faccio recensioni su prodotti che non mi sono piaciuti sia chiara questa cosa bene io per il momento vi saluto vi do appuntamento alla prossima recensione perché sicuramente sarà una recensione il prossimo video che vado a registrare adesso tra l'altro e un saluto da mobile brand lasciate un like se vi è piaciuto il video lasciatemi dei commenti su questa tastiera sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi e alla prossima grazie Oki